per concludere regnamente la serata ci va il campanile testimoniamo che l'orologio funziona sono le sei e mezza allora dietro un cancelletto di art nouveau floreale ci sta di tutto di più queste sono le cose belle di frosinone no però noi dobbiamo fare lo stadio chicanocaminibus mi chicanocaminibus di loro al patolo che schiacciano di cronio sempre una seguita mamma te la faccio vedere io non ti rimuove vincere da tutti ho la ragione spiecarci verso schipi che denti grandi hai ma va a pangar la trama ti sbrano every day calmò le scopo e vai ma va a pangar la trama ti sbrano every day ciao ciao ciao